Lavorare con l'argilla per stimolare abilità creative, manuali, sensoriali e sociali. E' iniziato in questi giorni il nuovo laboratorio della cooperativa CEF Francesco Bandini diato per offrire un salto di qualità nei percorsi dedicati all'autostima, all'autocontrollo e al rispetto delle regole pensati per le persone con disabilità. Sostenuto dalla Cassa di Risparmio 100, il laboratorio si alternerà fra fase creativa, il controllo e la cura del materiale e del risultato. Alcuni dei lavori verranno presentati durante la prossima esposizione di Argilla. Cerchiamo di fare un salto di qualità rispetto ad un'attività che era precedentemente già consolidata all'interno e grazie al contributo e alla collaborazione vorremmo vedere, oltre che a fare le attività manuali tipiche della ceramica di lavorazione dell'argilla che avevamo all'interno, di finalizzarle anche a costruire una rete di relazioni col territorio e a partecipare a alcuni momenti pubblici per finalizzare, diciamo così, quelle che sono le potenzialità abilitative della ceramica con la funzione dell'integrazione sociale e dell'inclusione sociale che ci può proprio aiutare a creare percorsi di maggiore autonomia per le persone con disabilità che frequentano l'attività. Questa è un'attività che viene proposta su base volontaria a tutti i frequentanti il centro socio-occupazionale Il Sentiero, quindi potenzialmente tutti i 22-23 utenti attualmente frequentati il centro privilegiando coloro che ritraggono maggiore potenzialità da questa attività. Come nasce questa collaborazione fra la Cassa di Risparmio e la CEF? Prima di tutto questa collaborazione nasce dall'impegno reciproco della Cassa e della CEF di fare un qualcosa in più per eccellere ancora in maniera più spiccata nel territorio di Faenza. La Cassa di Risparmio di Cento ha aperto una filiale nella città di Faenza e da sempre, attenta al territorio, ha voluto trovare una forma di collaborazione con una realtà che già lavorasse per il territorio in maniera eccellente e di valore e questa è stata la nostra scelta per orientarci con la CEF che dà sostegno e permette a delle situazioni di disagio di trovare una loro collocazione dignitosa. La nostra collaborazione nasce dal volontà di tutti i dipendenti di destinare quella che poteva essere una cifra, una somma destinata a un regalo di Natale per i nostri bambini perché qualcuno che in un momento particolare della vita ne aveva più bisogno potesse amplificare il valore di questo regalo e quindi è nata questa volontà di donare e di mettere a fattor comune qualcosa per il bene di tutti, quindi territorio, persone, banca e sentimenti. Per quello che ci riguarda è importante vivere il nostro territorio, la città di Faenza in un momento difficile per il momento economico ci ha accolto in modo molto positivo e quindi questo progetto ci permette di realizzare uno dei nostri motti, creare valore senza rinunciare i valori, quindi riusciamo a combinare molti ambiti. Questo è molto importante perché significa essere vicino alle persone, essere vicino al territorio in cui operiamo.